Ciao a tutti i tifosi del Milan. Benvenuti sul canale ufficiale del Milan, dove ogni giorno lavoriamo sodo per migliorare la squadra e ottenere i migliori risultati possibili. Prima di tutto, se amate il Milan e volete rimanere aggiornati sulle ultime notizie, cliccate sul mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Oggi abbiamo una notizia eccitante da condividere con voi riguardante il mercato dei trasferimenti. Il Milan ha comunicato a Bologna di voler attivare la clausola di rescissione per Joshua Zirkzi, segnando un passo importante verso l'acquisizione di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Zirkzi, a soli 23 anni, ha impressionato tutti durante la stagione 2-0-2-3-24 con il Bologna, segnando 12 gol in tutte le competizioni, di cui 11 in campionato. Ma non è tutto, ha anche aggiunto 7 assist al suo conto personale, dimostrando di essere un attaccante non solo goleador ma anche creativo. L Milan è alla ricerca di un nuovo numero 9, e Zirkzi sembra essere il candidato ideale per vestire questa maglia nei prossimi anni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha pianificato di attivare la clausola di liberazione di 40 milioni di euro per Zirkzi, attiva nella finestra di trasferimento estiva. Le discussioni tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore olandese sono già in corso per definire i termini personali, un aspetto che Romano descrive come il punto cruciale di tutta la negoziazione. In una svolta positiva per Jeffrey Moncada e il suo team, Romano afferma che Zirkzi è felice di rimanere in Italia e molto entusiasta del progetto Milan. Ora, vorrei sapere da voi, tifosi, cosa pensate dell'arrivo potenziale di Zirkzi al Milan. Credete che sia il pezzo mancante per il nostro attacco? Lasciate i vostri commenti qui sotto, la vostra opinione è molto importante per noi. Non dimenticate di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale per non perdere altri aggiornamenti. Grazie per essere con noi oggi. Forza Milan sempre!